Mi mangiare molto, e va beh, pazienza. Non mi fate stare in pensiero. Sì, stai tranquillo, non ti preoccuparti. Sì, però prendi poco sole tu. Eh, mi raccomando. Tira dentro il velocino. Anche te, tira dentro il veloce, faccia da pia. Dentro, dentro. Date piano col treno. Sono fumati in galleria. Ciao. Ma che fai? Te sei commossa? No, è che le partenze mi comunicano sempre un certo patos malinconico. Ma tu devi insultare, caro mio. Perché stanno per scattare festeggiamenti a raffica. Si inizia già da stasera, eh? Già, già. Stasera mia moglie mi ha organizzato un miniatrone da scaldare. Figurati. Invece io ti ho organizzato due zoccolone da trombare. Non lo so, scegli due, eh. Ciao. Ma chi sono? Te dico solo i nomi. Loredana e Moana. Loredana e Moana. Loredana e Moana. Ma, ma, ma chi ti prendi tu? Eh, beh, vediamo un po' come butta. A me vi sarebbe Loredana. Che pepi sono queste? Le signorine Loredana e Moana. Ehi là. Ohi là. Spagnole? No, ragione mia. Appunto, spagnole. Sarebbe questo il famoso notaio? Mica male, me ne sono fatti di peggio. Delicata, eh? Eh, sì. Sarà meglio andare, il nemico ci osserva. Andiamo, andiamo. Così, faccio strada. Prego. In un altro mondo. Tenta la gamba. Così. Contente? Comode? Ho prenotato da bici. Ma scherzi. Perché? Ma se noi ci attacoliamo da bici con questi due smandrabboni, secondo te, quanto tempo ci mettono a saperlo le nostre signori montagne? Un'ora scarsa te la do due quitte. Eh già, che pirla che sono, che pirla. Vabbè, andiamo fuori porta, eh. Io conosco un posto dove fanno un risottino con la trifola. Vivavo la trifola? Vivavo la trifola? Sì, va bene. Benissimo, però è fuori parte, eh. Ma dov'è? Eh, cuneo, vicino a cuneo. Ok. Ma che mi dici delle girls? Che ti dico? Provare per credere. E al sabato!